I medici mi hanno mentito per 15 anni. Mi chiamo Sigfrido Ranucci e ho problemi alle ginocchia da 15 anni. Mi è stata diagnosticata l'osteoartrite all'età di 47 anni e la mia vita è un dolore costante. Il trattamento prescritto dai medici era inutile. Consisteva in continue pomate antidolorifiche che non avevano alcun effetto e in iniezioni molto dolorose e costose sotto la rotula. In ogni caso, la condizione delle mie articolazioni non faceva che peggiorare. Con l'avanzare dell'età, oltre ai dolori lombari, ho iniziato ad avere problemi alla schiena. Ora le case farmaceutiche e i politici non permettono che il loro prodotto entri nel mercato farmaceutico perché aprirebbe gli occhi di tutti sulla verità e dimostrerebbe come siamo stati tutti ingannati. Ma anche voi, come me, potete rinunciare al prodotto e guarire. Dovreste cliccare urgentemente sul link sottostante per ottenere la vera guarigione e salvare le vostre articolazioni e quelle dei vostri familiari o amici. Dovreste farlo il prima possibile, finché ne avete ancora la possibilità. Superate per sempre il dolore alle gambe, alla schiena, al collo o ad altre aree problematiche e vivete una vita lunga e felice. Cliccate su Saperne di più.